Il coronavirus e l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in queste settimane non stanno fermando la violenza sulle donne. Anzi, questo periodo di quarantena che confina le donne dentro le mura domestiche tutto il giorno, tutti i giorni, con gli uomini violenti, rischia di metterle ancora di più in pericolo, come ci confermano i recenti fatti di cronaca. Per questo voglio rivolgere un appello a nome di tutta la giunta regionale a voi donne, non mettete a rischio la vostra vita e quella dei vostri figli. Rivolgetevi ai nostri centri antivolenza o chiamate il numero 1522, in un momento in cui siete sole, magari approfittando il momento in cui uscite per fare la spesa. Chiamate, fatevi aiutare, non abbiate paura. Anche in questi giorni i nostri centri sono operativi, anzi desidero cogliere questa occasione anche per ringraziare le tantissime operatrici, tantissimi operatori che in questi giorni stanno veramente dando il massimo per aiutarvi. Insieme ce la faremo.